Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Chat Horror Oggi siamo giunti alla quarta parte di questa storia Iniziamo subito Anzi, prima di iniziare un breve riassunto di questa storia Allora, secondo quanto ho capito da questa storia Si tratta di una persona che ha una doppia personalità Una si chiama Alexandra L'altra si chiama, se non erro, Jack Scusate ma l'ho letta già qualche giorno fa Quindi non mi ricordo bene Chi è la sua doppia personalità La sua doppia personalità praticamente Dovrebbe essere in teoria l'anima Della persona che ha ammazzato Che praticamente lo tormenterà Ce la tormenterà forse per il resto della vita Dopo che comunque il cadavere è stato trovato Lei è stata chiusa in un centro schiadrico Non è stata praticamente messa in pigione Perché a quanto pare era mentalmente disturbata Lei è poi stata dimessa Nella terza parte Dove però comunque ha cominciato ad assumere pillole Lei è poi arrivata ad assumere troppe pillole Siccome a quanto pare forse in quel periodo Il controllo l'aveva, diciamo, la sua doppia personalità Ha preso più il controllo lui che lei poi Quindi iniziamo adesso con la quarta parte Ecco ovviamente è comparsa la pubblicità Date un attimo Perfetto Inverno numero 8 Quindi saranno passati in totale 8 anni Quindi dalla prima storia a ora Il resto dei 18 inizio a dimenticare Tentativi interrotti In principio non può arrivarci Non ascoltare Sto parlando a me stessa È successo Quando solo i pensieri creano cause Messaggi mentali Il giorno è più lungo La vita è più corta Ed i sogni Non mi piace più I primi 18 non appaiono Sto oltrando gli ultimi 8 sono qui Non riesco ancora a capire cosa stia dicendo Ma sto resistendo Sono più forte che posso Se lascio andare la possibilità Quell'otto calda lateralmente O Infinito Bravo Questo è un buon verso È meglio di tutti gli altri Non è banale È vaniglia Qui puoi sentire l'energia Si sente la forza Se sembra più forte Ad ogni lettera Grazie Sono grato che tu sia soddisfatto Puoi riposare adesso Ti lascerò Grazie Uscirò Né nel cortile A prendere un po' d'aria Fresca Ma Sembrerebbe un'altra storia questa Quasi Posso? Sii solo prudente Buono Lo terrò a mente Ti stanno cercando Ad ogni passo che fai Sono cattivi Sì Se qualcuno di loro Ti chiede qualcosa O vogliono parlarti Cosa farai? Starò zitta Giusto Ben detto Ti guarderanno in modo strano Lascio stare Ti urleranno addosso Tutte queste stupide parole Forse a quanto pare Sta cercando Di non far capire Che comunque Acqua la sa doppia Personalmente Forse Ora ho capito il nesso Folle Pazza Ecco Mi sa che è proprio Quello che pensavi allora Lascio stare Cosa farai? Non mi curerò Non mi curerò di loro Giusto Meglio se non ti Non li guardi affatto Metti il cappuccio in testa Metti le mani in tasca E ignora tutti Come sempre E vestiti più pesante L'inverno è già qui Ok Sì a volte ti tratto come una bambina Scusami Dimentico che sei già una donna Va bene così Sono abituata Ed è bello che ho trovato un modo per parlarti senza un cellulare Vero? Sì è molto meglio Pensieri nient'altro Non ho bisogno di spingere al colpunzante Ventunesimo secolo dopo tutto Ah Perché sei così triste? Ti ho offeso Ti ho offeso turbato? No Allora sorridi Posso? Puoi Puoi Va tutto bene Molto meglio Ti senti meglio vero? Dimmi che ho ragione Non so Non sono felice da un po' Non sorrido da molto tempo Davvero Ho soltanto digitato un sorriso sullo schermo No Stop 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 Non digitare più Basta pensare Sorridi Meglio Grandioso Ti senti meglio vero? Forse Non essere triste Va fuori nel cortile Dovrebbe essere più semplice Sono già sulla strada L'aria fresca E leggermente gelata Ma non ha fatto freddo Che cosa c'è nel cortile? Nulla Tutto come sempre Non c'è quasi nessuno qui Solo un paio di nonne Sedute sulle panchine Loro mi guardano sempre In modo strano E mi sbigliano Bisbigliano 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 Probabilmente pensano Tu sia una Tossi condipendente Come se dessi il loro fastidio Mi fai nervosire Quando è stata l'ultima volta che sei uscita? Non ricordo Molto tempo fa Non ricordo quando ho parlato l'ultima volta con qualcuno Perché ne hai bisogno? Non vale abbastanza con me? No Ti sto ritando? Vuoi cambiare le cose? Posso farlo per te Possiamo divertirci molto di più Non ce n'è bisogno Sono soddisfatta di tutto questo Prego Dove sei adesso? Che stai facendo? Ho camminato intorno alla casa Perché? Cosa c'era intorno? Nulla Volevo soltanto andare via dalle nonne Torno indietro Non puoi allontanarti Vedo tre alberi Mi ricordano qualcosa Ma non riesco a capire cosa Vai via Ho detto Sono cadute tutte le foglie Sono come scheletri Sotto di loro la neve Sto iniziando a ricordare qualcosa A quanto pare forse ha dimenticato L'omicidio Va nel cortile Te l'ordino Casa Ok Sto andando Ma sai Mi è venuto in mente un pensiero Cosa? Che pensiero? Non ti ho mai dato nulla E quindi? Si è apparsa dopo l'omicidio L'omicidio se lo ricordo ancora Quindi Quindi Per darti un regalo Devo uccidere qualcun altro Ok Ok Quanto pare Vuole fare un altro Un altro Un altro omicidio Che diavolo sta dicendo? Chi stai per uccidere? Non lo so Che differenza fa? Sto andando in cortile Ho forse ragione Sono una tua serva Devo fare qualsiasi cosa per te Questa sarà una sorta di sacrificio Questo può darmi nuova forza Sei ingegnosa Alexandra Sei la migliore Come se fosse successo Qualche secondo fa Posso farlo di nuovo? Ben fatto Chi dovrà uccidere? Non ha importanza Scegli qualcuno O qualcuna Sarò più forte Noi saremo più forte Quindi Hai già deciso? Cosa ti ha fatto Perdere così tanto tempo? Perché sei scortese Con me Greg? Non so cosa intendi Sei sempre così scortese Con me Che ti è successo? Ti ho ingannato un po' In che modo? Non sono andata Da nessuna parte Sono ancora ferma Sotto quei tre alberi Me lo sono ricordato Cosa? Cosa ti sei ricordata? Tutto Ti ho invitato da me Ti ho amato follemente Ma non mi hai dedicato attenzione E rilevi di tutti i miei tentativi Ma quando ti ho invitato da me Tu hai subito accettato Volevo dirti che ero innamorata di te Sì Confessarti il mio amore Onestamente e sinceramente E tu sei venuto ubriaco Ricordo l'odore di quel pessimo vino Stupro Ah Volevo ammettere il mio amore E tu mi hai stuprata E tu mi hai violentata Quando sei andato Andata alla finestra A fumare Sono andata in cucina E ho preso il coltello Tu sei ciò che è successo dopo Adesso sono in piedi sotto gli albi Dove già piacevi Ho gettato indietro il cappuccio La neve si sta posando sul mio viso Sei diventata completamente matta Va a casa, veloce Te la farò pagare Ucciderò davvero Indovina chi? No, non osare Ti ordino di fermarti Solo così puoi smetterla Perdonami Greg 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 ci sei? Ciao Non ho capito bene il finale Se è quel che ho capito bene Forse ho capito com'è finita Questa parte della storia Però non ne sono sicuro Quello che sospetto È che praticamente Allora lei Se aveva forse dei testimoni Probabilmente poteva essere anche Considerato difesa Perché Se lei veramente è stata stuprata Da lui Volendo Poteva Quindi Andare in ragione Però Allora Parlando invece del finale Quello che temo Lei ha detto Uccidere ancora Non so O ha preso dei farmaci E quindi Ha preso Lui Di nuovo Il possesso del corpo Cioè del suo corpo O Il fatto che ha detto Ucciderò ancora È che Non vorrei che si sia uccisa Lei stessa Quindi Non si sa Lo scopriremo Più o meno Comunque Nella prossima parte Se lei Si è suicidata Alla fine Oppure Non lo so Che ha preso i farmaci Quindi ha preso il controllo Del corpo Lui Ora Va bene Che dire Se il video è piaciuto Mi lascia un mi piace Iscrivetevi al canale Per questo video è tutto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao